Qualcosa è un'altra cosa? Qualcosa l'ha spaventata? Cosa hanno fatto al mio cervello? Non ha una bella cere. Deve prendersi più cura di sé. FOTOGRAFIE Una chiesa. FOTOGRAFIE 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 Cosa è stato? Cosa è stata? Grazie. 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 Leslie? Sebastian? 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 Lo stesso posto delle fotografie? Sebastian? Ma è tutto bene? Ho un ronzio in testa. Come se stesse per aprirsi in due. Ma ora inizio... inizio ad abituarmici. Hai visto Kidman? No. Mi sono ritrovato qui, forse. Sono svenuto. Oppure... mi sono trasformato. Vieni. Entriamo. Un'altra? Un'altra? Apri quella porta. Ci sto provando. Mi serve un po' di tempo. Merda. Un'altra. 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 Non posso trattenerli a lungo. Solo un attimo, continuo a coprire. Solo un attimo, continuo a coprire. Ci siamo! Forza! 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 Riposiamo un attimo. Non possiamo continuare così. Io dico che dobbiamo uscire di qui il prima possibile. Che ne dici della torre? Possiamo farci un'idea del posto? Qualsiasi posto sarà meglio di questo. Grazie a tutti. Stiamo attenti. Potrebbero essercene molti. Stai al riparo. Sparano dall'alto. Dobbiamo eliminarle tutte. E se vogliamo entrare. Ora forse ci faranno a pezzare. Abbiamo speranza, se non abbiamo le altre battaglie. Va secco. Ma perché avevo insolito? Ah! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.